Prima di cominciare questo video è arrivato il momento di parlare di NordVPN. NordVPN è il servizio di VPN testa alla mano più veloce al mondo, con 5200 server per oltre 60 paesi. Ora che si è ricominciato a viaggiare, NordVPN può essere un utile strumento per rimanere, seppur virtualmente, sempre a casa e non perdersi i titoli di nostro interesse in piattaforme di streaming come Netflix al cambio di nazione e quindi di connessione. Inoltre, se siete dei gamer, NordVPN vi proteggerà da attacchi DOS che potrebbero rallentare e rendere decisamente meno piacevoli le vostre sessioni di gioco. Con il nostro link personalizzato potrete accedere ad un'offerta a tempo che vi permette di sottoscrivere due anni di abbonamento col 73% di sconto e 4 mesi in regalo. Pertanto, invitandovi a cliccare il link in descrizione qualora foste interessati, vi ricordo di sfruttare questa opportunità prima che sia troppo tardi. E detto questo, cominciamo. Ciao a tutti ragazzi, qui è Saidonia e benvenuti in un nuovo video sulle anteprime del mondo videoludico. È passato veramente tanto dall'ultimo lavoro del genere per via della pandemia che ha messo in ginocchio il mondo intero negli ultimi anni e che ci ha costretto, nel nostro caso, a eventi da remoto e videochiamate. A piccoli passi però stiamo tornando alla normalità e questo video è un assaggio di quello che si spera ci aspetti in questa ripartenza che un po' tutti stiamo vivendo. Come da titolo è successo. Abbiamo avuto il piacere di provare per circa 90 minuti la coppia di Switch OLED, la nuova console della famiglia Nintendo Switch, e Metroid Dread, ultima iterazione della serie Metroid 2D e sequel di Metroid Fusion. Entrambe in uscita l'8 ottobre. Si è trattato di un'anteprima capace di raccontarci molto, cosa rara nei solitamente fugaci eventi di hands-on. E parte del merito lo ha sicuramente l'interconnessione fra i due prodotti, che va ben oltre la semplice condivisione della data di disponibilità sul mercato. Presentare Switch OLED assieme a Metroid Dread è una mossa intelligente perché l'uno sfrutta i pregi dell'altro e viceversa. Per comprendere meglio di cosa io stia parlando è necessario entrare nel dettaglio della nostra analisi, che avrà come primo protagonista proprio il nuovo hardware della grande N. Ci troviamo plausibilmente oltre la prima metà dell'arco vitale di Nintendo Switch, uscita a marzo del 2017, e con quest'ultima console direi che la famiglia è al completo. Non Switch Pro, non una console con potenza maggiorata, nuovo processore, nuova scheda grafica, ma un modello OLED che punta a migliorare quasi unicamente lo schermo della console genitrice, e che quindi spinge prevalentemente nella direzione della portabilità. Per darvi subito un'immagine dell'offerta Switch con relativi prezzi, dall'8 ottobre la situazione sarà la seguente. Dopo il taglio di prezzi avvenuto ufficialmente in tutta Europa, troveremo Switch Lite a 220 euro, la Switch tradizionale a 270 euro, e l'ultima arrivata, Switch OLED al prezzo maggiore di 350. Quali sono le migliorie che questa macchina offre, contando che adesso si distanzia di 80 euro dal modello di Switch base, e tenendo di conto che al livello di potenza della macchina non ci sono reali differenze? A dire il vero, le novità sono comunque molte, e ve le voglio raccontare nel dettaglio. Alcune migliorie sono nette e incontrovertibili, altre invece gettano luci e ombre che andranno necessariamente diradate con un utilizzo prolungato della console. Partiamo dal dock che, come avrete potuto osservare anche voi da trailer e immagini promozionali, ha subito un importante redesign tecnico ed estetico. L'accessorio infatti è ora bianco e lo sportellino sul retro, che serve per collegare i vari cavi utili della console, ha ora perso la cerniera che lo teneva vincolato al corpo principale ed è dunque divenuto rimovibile. Io non ci avevo mai fatto caso a questa cosa che in realtà era stata fatta vedere anche nei trailer, quindi voi immaginatevi dopo due anni di hands-on sfumati, arrivo da Nintendo, apro il dock e mi rimane in mano, e penso vai, fottuta la carriera e la gioia del momento. La cavità sullo sportello poi, precedentemente squadrata, è ora divenuta un più lungo e spazioso arco, che permetterà ai cavi di disporsi più morbidamente l'uno accanto all'altro, evitando i fastidiosi conflitti che avvenivano con il precedente modello tra HDMI e cavo dell'alimentazione. La scelta sicuramente è dovuta anche alla presenza del richiestissimo slot Ethernet per una connessione LAN della console, precedentemente acquistabile solo separatamente al prezzo di 30€. Francamente si tratta dell'aggiunta più dovuta e in qualche modo obbligatoria, dato che tale feature avrebbe dovuto essere integrata da subito sin dal primo modello di Switch, evitando scomodi e inaspettati viaggi nel tempo all'era della PlayStation 2. Coerentemente a questo cambiamento, per evitare un innalzamento del dock, è stata rimossa sul retro la USB 3.0, nella quale, peraltro, si finiva per attaccare unicamente l'adattatore Ethernet da acquistare separatamente. O, alternativamente, un cazzo. Proprio un cazzo. USB 3.0? Proprio perché è veloce, se no, cazzo lento o no? Cazzo lento gioco me. Salutiamo NintendoFurop che controlla se abbiamo rotto l'NDA. L'NDA no, il cazzo sì, probabilmente. Ovviamente, e l'ho preciso per i giocatori di Smash che in questo momento potrebbero avere una sincope al solo pensiero, i due slot USB alla sinistra del dock rimangono intatti, quindi il collegamento con l'adattatore dei controller del GameCube è salvo anche in questa riedizione dell'accessorio. Anche se ci è stato impossibile fare una misurazione in centimetri perché le analisi sul prodotto avevano delle limitazioni, ci è sembrato che il vano per l'inserimento della console nel nuovo dock sia stato leggermente allargato, oltre che stondato alla base. La scelta, probabilmente, è stata presa per ridurre le rigature accidentali allo schermo della console che potevano avvenire dopo i frequenti inserimenti e rimozioni della stessa. Purtroppo, però, per confermare questa sensazione dovremo attendere ovviamente un'osservazione del dock dopo la data d'uscita. La nostra analisi in anteprima è stata eseguita totalmente in portabilità perché è stata organizzata per farci apprezzare lo schermo della console e di conseguenza il dock lo abbiamo potuto solamente osservare senza vederlo realmente in azione. Ciò nonostante è bastata questa fugace occhiata per farci capire che il nuovo dock è nettamente migliore del suo predecessore e chiarisco sin da subito che si tratta di un oggetto acquistabile separatamente da Switch OLED, anche se non ne conosciamo ancora il prezzo. Sarà proprio il quantum, a mio avviso, a fare d'ago della bilancia, perché il dock, o meglio, il dock attuale è acquistabile a 79€. Un prezzo del genere o comunque simile a 50€ di distanza dall'adattatore LAN di Ori renderebbe il nuovo dock davvero poco appetibile per chi di fatto desidera solamente l'upgrade della porta Ethernet integrata. Proseguendo con la nostra analisi arriviamo al corpo della console. Internamente non cambiano chipset, non cambia la scheda grafica, non ci sono i 4K di risoluzione, i DLSS di NVIDIA e compagnia cantante. La memoria interna di base però passa da 32 a 64 GB. Ci tengo a precisare che non sto parlando per mie supposizioni, per sentito dire o per dichiarazioni fatte su siti terzi. Ho fatto direttamente a Nintendo la domanda cambia qualcosa all'interno della console oltre a quello che vediamo? E la risposta purtroppo è stata no. A livello di potenza, Switch OLED è una Switch tradizionale del 2019 in tutto e per tutto. Cambiano però comunque alcuni dettagli importanti. Gli speaker per l'audio, ora potenziati nei decibel che hanno la possibilità di emettere, non si trovano più alle estremità inferiori dello schermo, ma nella parte bassa della console, in una posizione del tutto simile a quella di Switch Lite. benché la larghezza degli speaker sia indubbiamente maggiore. La potenza delle casse è indubbiamente migliorata ed è regolabile attraverso i tradizionali tasti di volume up e volume down che sono posizionati in alto sulla console e che hanno ricevuto un redesign ovaleggiante assieme al collega tasto d'accensione. Trovo però che adesso la console a volume massimo sia quasi fastidiosa perché a un incremento dei decibel d'emissione non è seguita una miglioria delle frequenze basse delle casse. E il risultato, almeno in ambienti poco rumorosi, è quello di una udibilità eccessiva di frequenze alte che non sono troppo piacevoli per l'orecchio perché risultano piuttosto squillanti. Probabilmente è una sega mentale che mi faccio solo io, però voglio dedicare questo momento ai fratelli musicisti e tecnici del suono che seguo sempre. Probabilmente, visto che Nintendo Switch nel mondo pre-covid è stata spesso compagna di viaggio di molti, le nuove casse sono pensate per essere portate al massimo solo negli ambienti estremamente caotici, nei quali il malus delle frequenze alte non sussiste e la capacità di udire musiche e effetti sonori è unicamente aumentata. In casa, invece, sarà sempre preferibile utilizzare la console con le cuffie o addirittura attaccarla al dock e quindi direttamente al televisore. Un altro apprezzato miglioramento, benché si tratti di una coccola minore, è dato dallo stravolgimento della linguetta posta sul retro della scocca di Nintendo Switch e che permetteva l'utilizzo della Tabletop Mode, in vero una delle modalità più inflazionate in portabilità perché permette di utilizzare i Joy-Con separati. Parliamone. La linguetta della vecchia Nintendo Switch è la parte peggiore dell'intera console. È instabile, balla, è insufficiente a garantire l'equilibrio della macchina e ogni volta che la si estrae si pensa sempre in quei tre secondi che sia l'ultima volta che si riesce a farlo. Perché credo sia stata ingegneristicamente attaccata al corpo della console con preghiere e buona volontà e basta. Adesso, in una piacevole puntata di Perché non ci avete pensato prima? La linguetta è divenuta molto più grande, si estende per diversi centimetri in altezza sul retro e per l'intera lunghezza dello schermo. Il suo spessore non fa più temere eventuali danneggiamenti, la stabilità che dona la console senza precedenti e la sua regolabilità, prima indisponibile, permette di posizionare Switch in varie inclinazioni per venire incontro alle esigenze del momento ed eludere eventuali fasci di luce naturale o artificiale che disturbano l'esperienza visiva. La mancanza di una vera modalità tabletop spendibile per me è stata particolarmente sofferta nel modello originale di Switch, soprattutto ai tempi in cui viaggiavo molto tra Giappone e tra il Los Angelino. I lunghi viaggi in aereo erano indubbiamente allietati da sessioni di gameplay su Switch, ma l'inaffidabilità della linguetta sul retro mi ha costretto ad affidarmi ad accrocchi di terze parti per tenerla in equilibrio sul mio tavolino con la costante paura che mi potessero comunque danneggiare la console o rigare lo schermo qualora si dimostrassero a loro volta instabili o con degli incastri ragionati male. E vaglielo a dire all'assistenza che ha caricato la console con un accrocchio di terze parti. Nonostante questa miglioria, però, non è stato comunque risolto il problema dell'impossibilità di ricaricare la console in tabletop mode, perché ancora una volta lo slot di ricarica si trova alla base inferiore di Nintendo Switch OLED. Una problematica dovuta alla reiterata coincidenza tra slot di ricarica e uscita video, che sarebbe potuta essere risolta solo tramite uno sdoppiamento degli slot C, uno in alto per la ricarica e uno in basso per l'uscita video tramite dock. Ma arriviamo al vero protagonista, dato che per ora vi ho servito solo l'antipasto. Al di là di variazioni di design, smussature e accessori deluxe, il grande cambiamento di Nintendo Switch OLED è anche quello che le dà il nome. Al posto del vecchio schermo LED a 6.1 pollici e senza alcun tipo di cambiamento della grandezza della console, troviamo ora un display OLED di 7 pollici. Il bordo nero attorno lo schermo, quindi, è stato ridotto e l'esperienza visiva dell'utente migliorata in primis in ampiezza. È però la tecnologia OLED a fare davvero spartiacque tra vecchio e nuovo. Ed è necessario un piccolo momento tutorial per chiunque non conosca la differenza tra le due tecnologie. Che differenza c'è tra un display LED e uno OLED? È solo il vocativo la distinzione tra i due? È perché cazzo arrivo a fare battute da boomer nei video? Però chi l'ha capita, bravissimo. Senza scendere inutilmente nel dettaglio e cercando di carpire unicamente la differenza reale tra i due schermi, nei display LED più economici, i pannelli di pixel sono retroilluminati da fasci di luce, che vengono posti dietro lo schermo in varie posizioni e contribuiscono alla resa dell'immagine finale. I pixel dei display OLED, invece, più costosi, non hanno bisogno di retroilluminazione esterna, poiché ognuno di loro produce autonomamente luce e in maniera indipendente rispetto agli altri. OLED sta infatti per Organic Light Emitting Diode e la materia organica che produce luce è proprio la reale differenza fra le due tecnologie. Ora, prendiamo questa nozione teorica e convertiamola nel pratico. Quando uno schermo LED deve riprodurre immagini che presentano dei neri, ciò che fa è evitare di retroilluminare i pixel che devono gestire l'assenza di colore. Dato che però l'intero schermo è retroilluminato e i pixel non possono gestire la loro illuminazione in autonomia rispetto agli altri, è chiaro che il nero presente in queste immagini non sia assoluto, con sfumature e disomogeneità dovute alle luci adiacenti. Tali problematiche, in uno schermo OLED, sono completamente annullate. Ogni pixel si accende e si spegne autonomamente. E il nero è un nero reale con contrasto massimizzato e sfumature assenti. Ciò che vedete in sovrimpressione è la differenza di neri tra OLED e LED e la differenza è sensibile, soprattutto quando si confronta uno schermo OLED con un display LED economico e con retroilluminazione basilare. Diventa quindi chiaro perché Nintendo intelligentemente abbia deciso di farci provare assieme a Nintendo Switch OLED proprio Metroid Dread, ovvero un gioco quasi dalle sfumature horror nel quale Samus deve esplorare mappe scure, tetre e spesso in assenza di luce. Il titolo è stato sicuramente costruito anche per dare risalto al nuovo hardware, che in portabilità è capace di riportare contrasti senza precedenti e che sarà sicuramente in grado di donare un nuovo volto anche a prodotti come Luigi's Mansion 3 oppure il Detention di Red Candle. Avete reso grazie a Red Candle anche oggi? Benché lo schermo LED di Switch, ci tengo a precisarlo, fosse tutt'altro che economico e avesse già di per sé una buona resa delle immagini, il confronto con OLED vede nettamente vincitore quest'ultimo. E il miglioramento va ben oltre il semplice contrasto maggiorato appena raccontato. I colori di OLED sono più voluminosi e meno saturati e l'angolo di visuale prima di arrivare ad una loro distorsione arriva ora a un massimo di 84 gradi contro i 54 di un normale schermo LED. Inoltre in generale gli schermi OLED hanno un consumo energetico inferiore rispetto a quelli LED dato che appunto non devono gestire dei fasci di luce per la retroilluminazione. La cosa è assai rilevante in questo modello di Nintendo Switch dato che essa monterà la stessa batteria presente nelle Switch di base prodotte dal 2019 in poi e quindi nel pratico dovrebbe presentare un lieve miglioramento di durata della carica benché il sito ufficiale ci mostri un grafico che più o meno equipara le due console in questo frangente. Se rapportiamo però OLED alle Switch del Day One ovvero quelle prodotte tra il 2017 e il 2018 la durata della batteria in teoria dovrebbe presentare una variazione sensibile. In attesa di poterlo confermare con utilizzi prolungati della nuova console mi confesso molto interessato a questo dettaglio cruciale per l'esperienza in portabilità. Sulla luminosità degli schermi OLED poi c'è da fare una piccola precisazione. Benché il display OLED possa sembrare più luminoso di quello LED per via di un contrasto maggiore tra colori chiari e colori scuri in verità è quello LED a possedere una brillantezza maggiore perché di fatto ha delle luci preposte alla retroilluminazione. E inoltre da tenere presente che in un qualsiasi schermo OLED e credo che Switch non faccia eccezione è sconsigliato mantenere la luminosità del display sempre al massimo proprio perché è gestita autonomamente e naturalmente da ogni singolo pixel. Spingere al massimo le prestazioni dello schermo ne ridurrà la longevità ed è con questa affermazione che introduciamo le inevitabili perplessità su questo nuovo prodotto. Come i precedenti tecnologici insegnano è infrequente ma comunque possibile che durante l'utilizzo di uno schermo OLED si possa presentare il cosiddetto fenomeno del burn-in e a noi con le nostre apparecchiature è successo diverse volte. Data l'illuminazione organica dei singoli pixel del display con un uso prolungato è possibile andare incontro alla comparsa di immagini residue ovvero di orme di oggetti e o elementi che sono stati a lungo presenti a schermo e che permangono anche quando non dovrebbero essere visualizzati. Non si tratta certo di dilemmi irreversibili perché le immagini residue tendono poi a sparire e si parla di un problema che in teoria dovrebbe presentarsi tra anni di utilizzo quando Switch probabilmente si accingerà ad andare in pensione però voglio comunque tenerlo a mente. In futuro in qualche modello di Switch OLED una HUD troppo presente a schermo potrebbe ripresentarsi nella sua orma anche durante una cutscene oppure uno schermo di pausa tenuto troppo a lungo on screen potrebbe ripresentarsi anche nelle fasi di giocato. Ma per avere una certezza di un fastidio del genere ovviamente bisognerà provare la console per un po' più di tempo. In definitiva quindi come si piazza Switch OLED nella sua famiglia d'appartenenza? Cosa ne pensiamo e soprattutto ne vale l'acquisto? Come sempre, contrariamente a quanto vorrebbe il pubblico che chiede sempre risposte oggettive, pareri netti, mannaggia voi mi fate fare la rabbia! Dipende. Switch OLED è stata pensata come una console che porta migliorie all'esperienza in portabilità ignorando completamente la modalità docked che rimane pressoché la stessa. È come se la line-up ragionata fino a oggi dalla grande N si dividesse tra la storica e originale Nintendo Switch che abbraccia pienamente l'equilibrio della sua ibridazione e due estremizzazioni diverse della sua anima portatile. Con Switch Lite si ha una rimozione della natura ibrida e una versione economica della portabilità con uno schermo ridotto in dimensioni, infatti abbiamo 5.5 pollici contro i 6.1, impossibilità di rimuovere i Joy-Con e tabletop mode assente. Con Switch OLED, d'altro canto, abbiamo una versione premium della portabilità con uno schermo OLED, con una tabletop mode effettivamente spendibile, una udibilità dei suoni possibile nelle situazioni più disparate e addirittura in teoria una durata della batteria migliore rispetto alle Switch del 2017. Di conseguenza, se non si è ancora oggi possessori di Switch e si immagina di usare la console anche e soprattutto in portabilità, a mio avviso l'acquisto oscilla tra Switch Lite e Switch OLED. La prima, se ci si accontenta del minimo indispensabile e comunque dignitoso, e la seconda se invece si vuole l'esperienza deluxe al suo massimo. Se invece non si possiede ancora Switch, ma ci si immagina giocarla solamente attaccata alla TV, vi direi che dopo il taglio di prezzo la scelta ricade ancora una volta sulla Switch tradizionale. Per chi poi possiede già Nintendo Switch e ne vuole acquistare un'altra, le scelte sono molteplici. Se come me avete la Switch del Day One del 2017 e la usate spesso in portabilità, valutate un acquisto di Switch OLED, ovviamente rispettando le vostre disponibilità economiche. Il miglioramento della Quality of Life potrebbe essere netto e in tutte le direzioni già descritte. Se invece avete una Switch prodotta dal 2019 in poi, e quindi nella sua versione con batteria migliorata e con un vostro acquisto meno remoto in termini cronologici, rifletteteci. Switch OLED ne varrà la pena solamente se siete davvero legati all'utilizzo della console Nintendo in portabilità. L'analisi di Switch OLED è finita, ma ci troviamo solamente a metà del nostro video anteprima. Come già menzionato più volte, assieme all'hardware abbiamo provato anche Metroid Dread, sforzo di Mercury Steam e Nintendo, sequel di Metroid Fusion del 2001, e successore dei Metroid 2D dopo Samus Returns del 2017. Per darvi un po' di contesto storico, si tratta di un titolo che era finito nel dimenticatoio, o, ancora meglio, nel Development L, dopo essere stato ragionato per Nintendo DS sin dal 2005. Un destino che sembra affliggere molti titoli della saga Metroid, e che questa volta trova almeno un lieto fine con l'uscita del videogioco per Nintendo Switch a 16 anni di distanza. Con questo non sto dicendo che Metroid Prime 4 verrà rimandato alla prossima console di Nintendo, assolutamente no, non è questa la mia previsione. Tranquilli, fan di Metroid? Non lo penso. Se l'analisi di Switch OLED è proceduta fra mille se e mille ma, con Metroid Dread le cose andranno diversamente. Sarò schietto. Ho adorato ogni singolo minuto dei 90 a mia disposizione. Sono passato nell'arco di un'ora e mezzo da, non me ne frega poi così tanto, della saga di Metroid e quindi di Metroid Dread, ma proviamolo perché c'è da provare la Switch, a, ho bisogno di giocare questo titolo in live insieme a voi e deve avvenire in fretta questa cosa. Questo è quanto mi è piaciuto Metroid Dread, e vorrei argomentare con voi la mia sorprendente soddisfazione. Metroid Dread parla di una strana spedizione che la cacciatrice di taglie Samu Saran si trova a dover fare in circostanze misteriose. Nonostante i Parassiti X sarebbero dovuti essere debellati nei precedenti capitoli della serie, un nuovo filmato che riprende proprio uno di questi organismi in vita viene messo in circolazione e Samus viene inviata in perlustrazione nel luogo di teorico ritrovamento dell'essere, il pianeta ZDR. Qui, purtroppo, due eventi spiacevoli accadono. La navicella di Samus, per motivi che non vi rivelo, va in avaria e diviene indisponibile, e gli emmi, robot mandati sul pianeta anzitempo in perlustrazione, non rispondono più ai comandi. Sono posseduti, infetti e ormai fuori controllo. Nel recuperare accesso alla propria navicella, il giocatore dovrà affrontare una serie di ambientazioni in pieno stile Metroidvania, quindi che pullurano di nemici e segreti. Tutte le azioni tradizionali di Samus sono confermate in Metroid Dread, dalla scivolata alla mira libera presente anche in Samus Returns, fino all'attacco in mischia che in realtà ha il gusto di una parata. Ci sono però delle modifiche degne di nota, e voglio sottolinearle soprattutto per chi è fan storico della saga, e conosce questi dettagli senza lo studio pregresso che ho dovuto fare per l'anteprima. La mira libera precedentemente richiedeva a Samus di essere piantata con i piedi per terra, mentre attualmente è possibile mirare liberamente, mentre ci si muove lievemente nella direzione verso la quale è girata la cacciatrice, potendo quindi leggermente aggiustare la traiettoria di tiro. Questa meccanica è particolarmente utile nelle situazioni più frenetiche, e in alcuni momenti di game design che sono stati ragionati proprio su questa feature. In una delle boss fight affrontate, ovvero quella del Corpius, un essere che è un alligatore mostro scorpione con due braccia da essere umano, Dicevo, nella lotta contro il Corpius sarà necessario danneggiare un punto debole presente sulla sua coda per uccidere effettivamente il mostro, e poterlo fare spostandoci liberamente all'interno dell'arco che di tanto in tanto il mostro crea con la sua coda aiuta a massimizzare lo sfruttamento dei pochi momenti di esposizione del punto debole. Sempre secondo lo stesso criterio di upgrade, la parata ora è realizzabile anche in corsa, benché si trasformi realmente in un attacco melee che danneggia i nemici alla pari di un missile. La mobilità di Samus dunque è senza precedenti, e la scelta di renderla più libera e snodata dona al gameplay varietà e spettacolarità. Più volte mi sono trovato a entrare in una stanza progettando i miei attacchi, Ok, adesso mi metto a scivolare mentre sparo su un nemico, poi corro all'indietro e colpisco il nemico alle spalle con un pugno, e adesso miro liberamente e cecchino la lontana a quell'alieno. Anche le ambientazioni si pongono in linea di continuità con la serie di Metroid, e presentano lo stesso schema di progress. Senza troppi fronzoli, dopo le scene narrative e introduttive, ci si trova a esplorare una miriade di mappe che pullulano di alieni ostili, porte chiuse che devono essere sbloccate secondo un preciso criterio, enigmi ambientali da risolvere sparando all'impazzata, e elementi dei livelli che richiedono l'acquisizione di poteri per essere realmente sfruttati. Se c'è qualcosa che mi ha sorpreso è la rapidità con la quale in 90 minuti Samus ha cominciato ad acquisire poteri speciali che le permettevano di esplorare diversamente la mappa. Gli upgrade rivelano una lettura trasversale del level design che pensavo erroneamente di aver compreso a una prima occhiata, e in 90 minuti mi sono trovato più volte a ritornare sui miei passi, forte delle modifiche della mia tuta spaziale e del mio cannone. Grazie a nuove abilità mi sono ritrovato a esplorare vecchie location in maniera talmente inedita da non riuscire a riconoscerle immediatamente come già vissute. E va bene, si so che state pensando che io non mi so orientare e che quindi è normale che questo succeda, ma vi assicuro che Chiara era lì presente e può confermare che davvero è così, per favore confermalo. Quanto mi fai? La mappa di gioco inoltre sembra mastodontica. Nei 90 minuti ragionati da Nintendo come demo, benché, l'ho preciso, io abbia giocato alla versione definitiva del gioco, ho visitato tre macro aree e non le ho completate minimamente al 100%. E al termine della prova ho aperto la mappa per verificare quanto avessi effettivamente completato di Metroid Dread. Con mia sorpresa avevo solo assaggiato la porzione sud del pianeta Z di R, ben più grande. Ma arriviamo all'elemento che caratterizza di più l'intera esperienza. Se Metroid ha Dread nel titolo c'è un motivo, ed è glorificato dalla tecnologia OLED della nuova Switch. Nelle sue ambientazioni scure, tetre e prive di luce, il nuovo Metroid è sinonimo di paura. Vi ho già anticipato che gli emmi, benigni i roboti per lustrazione, sono stati alterati. In questa nuova forma non sono più compagni fidati, ma mostruosità ostili il cui codice di programmazione li obbligherà a dare la caccia a Samus a ogni costo. Gli emmi sono disturbanti, forse anche perché sono fuori controllo e stranamente inorganici. E se all'inizio sembrano semplicemente dei nemici molto, molto forti, ben presto assumono movenze e comportamenti tipici dei titoli horror. Sono veloci, camminano a quattro zampe in maniera repentina, sono inarrestabili e una volta affiutato il bersaglio, difficilmente mollano l'osso. Essi sono posti a guardia di aree della mappa decisamente ampie, ma per la loro estrema velocità di movimento ho avuto l'impressione di essere davanti a decine e decine di emmi. In verità, nella prima area ce ne sono solo sette, ma la loro capacità di spostarsi e di comparire costantemente alle spalle di Samus sfruttando percorsi per lei inaccessibili disorienta il giocatore e crea l'illusione della loro onnipresenza. Quando gli emmi individuano Samus attraverso i loro sensori uditivi o visivi, essi partono veloci alla ricerca di un contatto fisico con l'avatar del giocatore che potrebbe risultare letale. Inoltre, sono in grado di chiudere tutte le uscite delle mappe nelle loro prossimità spostando sul giocatore non solo il peso di doverli seminare, ma anche di doverlo fare all'interno di un'area ristretta, anziché semplicemente correndogli oltre. Ogni incontro con gli emmi è una sfida all'approccio stealth e in caso di fallimento, una corsa a ostacoli per perdere l'aggro in un piccolo spazio e in poco tempo. L'unico modo per sopravvivere a questi robot è conoscere le loro debolezze da indagare attraverso il sistema immortale del trial and error. Alcuni non riescono a scalare le pareti, ad esempio, e altri non passano negli spazi più ristretti. Solo sfruttando l'ambiente Samus può vincere il confronto ed è qui che il titolo brilla in maniera eccellente. Normalmente, i giochi che mettono uno stalker al seguito del giocatore, per evitare sentimenti di frustrazioni dello stesso, gli permettono comunque di affrontare il nemico ad armi pari in combattimento. Tale soluzione riduce drasticamente il senso di tensione che tali avversari dovrebbero generare, fallendo nel replicare una situazione simile al Nemesis o a Mr. X di Resident Evil o all'Aisa di PT. Metroid Dread, invece, credo che raggiunga addirittura uno standard superiore agli esempi citati e mette Samus in una situazione di assoggettamento totale. Battere gli emmi nel corpo a corpo, stordendoli, è possibile ma estremamente difficile. E lo stesso gioco, più volte attraverso la voce dell'intelligenza artificiale Adam, ci ricorda che al 99%, una volta entrati in contatto con un emmi, saremo morti, sottintendendo quindi che c'è un 1% di probabilità di fare salva alla pelle. Rendere il giocatore incapace di sconfiggere un nemico molto potente e stalker, è indubbiamente in grado di mantenere alto l'indice della tensione. Ma dargli la possibilità di farlo, rendendolo difficilissimo, è ancora meglio. Nei brevi contatti corpo a corpo con gli emmi, che mi hanno ricordato le animazioni di morte dei Resident Evil, il giocatore e Samus vivono intensi secondi nei quali cercano di aggrapparsi alla vana possibilità di sottrarsi a un destino in fausto. La presa dell'emmi non viene vissuta come un frustrante game over, ma un purgatorio tra vita e probabile morte. Sublime. Com'è possibile sfuggire a un emmi, vi chiederete voi a questo punto? Semplice. È necessario realizzare un perry su uno dei loro due attacchi, fulminei e letali. Come potrete immaginare, dato che sono un esimia testa di cazzo, ho passato circa 20 dei miei 90 minuti a disposizione a provare a fare i perry sugli emmi, fallendo miseramente 9 volte su 10. Adam aveva ragione. Nello sdegno di Chiara e degli addetti Nintendo presenti. La loro finestra di perry è infima e il fatto che dopo vari tentativi continui ad essere difficile sfuggire agli emmi in realtà è un pregio. Dopo un'ora e mezzo di gameplay ho comunque continuato a temere gli emmi e anziché provare a stordirli come avrei fatto con un Nemesis qualsiasi, ho continuato a preferire l'approccio stealth, a sfuggirgli e quindi a avere paura di loro. Badate bene, uccidere gli emmi è possibile e in realtà sarà l'obiettivo di Samus. Per farlo però, la cacciatrice ha bisogno di un upgrade temporaneo e una tantum sul suo cannone che le permette di sparare un cosiddetto raggio Omega e così sciogliere il nucleo di questi robot impazziti. Il progress di gioco quindi, facendo un sunto di quanto detto finora, è a dir poco elettrizzante. Si entra in una nuova mappa impotenti, incapace di sfruttarne appieno il level design, a testa bassa e in silenzio perché si temono gli emmi che circolano in quel luogo. Poi però Samus si potenzia, attraverso questi potenziamenti esplora le mappe in senso trasversale, fino ad arrivare alla cosiddetta unità centrale nella quale si nasconde l'upgrade raggio Omega. Il giocatore quindi assapora il gusto dolce della vendetta e vive il momento nel quale la preda diviene predatore. Da quel momento è Samus il giocatore a mettersi a caccia dell'emmi e a sciogliere il suo nucleo in uno scontro che vede lei e non più i robot con il coltello dalla parte del manico. La macchina è distrutta, la ritorsione si consuma per tutte le morti subite, il raggio Omega viene perso e tutto ricomincia da capo. Samus torna impotente, viene invitata a raggiungere una nuova area nella quale nuovamente il rapporto di preda e predatore sarà invertito. Ho già detto che questo gioco è una figata? Lo ribadisco, il fattore Dread non è uno slogan, tanto quanto non lo è OLED per Switch. è il cuore pulsante del titolo Nintendo. In tutta sincerità mi chiedo cosa arriveranno a essere gli emmi in fasi avanzate di gioco. In 90 minuti siamo passati da robot che camminano lentamente e bipedi e sembrano semplicemente imponenti a mostruosità verdi uscite fuori da The Ring che camminano a quattro zampe e si infilano ovunque. Purtroppo la mia analisi sul titolo deve concludersi qui. In attesa di un giudizio che arriverà al termine magari di una serie in live se ce ne sarà modo. A mio avviso lo sforzo di Mercury Steam e Nintendo è tranquillamente in grado di essere in lizza per una delle migliori IP della storia di Nintendo Switch. Qualora ovviamente confermasse la qualità dei suoi primi 90 minuti anche in seguito. Ma sono positivo. Quando una software house fa provare per 90 minuti il proprio prodotto un tempo quindi molto esteso solitamente lo si fa perché si è sicuri di quello che si sta mostrando. In più quando il recensore esce fuori dalla stanza volendo giocare di più e scontento di dover tornare a casa beh, solitamente si è fatto centro. Conto i giorni all'8 ottobre. Signori abbiamo finito e adesso è arrivato il momento di dire la vostra. Siete contenti di Nintendo Switch OLED? La comprerete? Siete interessati a Metroid Dread? E perché sì? Fatemelo sapere nello spazio commenti di YouTube e se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like Pianino è dimesso perché sennò Lemmy In descrizione del Trastaselect avete il nostro sponsor di fiducia che vende magliette a tema anime serie tv e videogiochi col codice sconto giovanone e mettere l'oro di sconto su ogni acquisto. Noi ci vediamo stasera ore 20 e 45 con What Remains of Edith Finch finalmente si conclude il fantastico titolo indie che ci sta facendo sognare. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!